Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi scopriremo insieme una delle grandi novità arrivate in casa Tessilan, un piccolo accessorio ma che farà davvero la differenza nelle vostre creazioni. Di cosa sto parlando? Un accessorio che rivoluzionerà il vostro modo di creare borse o zaini. Parliamo della culisse. Eccola qui, scopriamola insieme nel dettaglio, la nostra culisse. La lunghezza totale del cordoncino è di 120 cm all'incirca. Ha un pratico regolatore che è largo circa 3 cm ed alto all'incirca 2. Il rivetto di cui è dotato permette una corretta fluidità sul cordoncino, quindi davvero facile da utilizzare. La superficie infatti è molto liscia, al tocco è leggera, facile da pulire ma molto resistente e inoltre è rifinita lungo tutta la sua lunghezza. Il risultato è un prodotto facile da utilizzare ma resistente e durevole nel tempo. Anche per questo prodotto le colorazioni non potevano che essere numerose. Questa è soltanto la prima, il colore magenta. Scopriamo tutte le altre. tante colorazioni che vi permetteranno di abbinare questo accessorio ai fondi e alle chiusure che trovate sempre disponibili in catalogo, avendo così una continuità di colore. Si tratta infatti di prodotti 100% made in Italy e di prodotti artigianali. Si tratta infatti anche in questo caso di un prodotto 100% made in Italy ed artigianale. La culisse ha una funzionalità semplice ma davvero ingegnosa, perfetta per chi ama creare con le proprie mani. Che si tratti di una borsa per la città di una pochette o di uno zainetto per svolgere delle attività all'aperto o delle passeggiate in campagna. Quindi non solo borse a secchiello ma potrete davvero sbizzarrirvi. Sarà infatti facilissima da utilizzare sia per le principianti ma anche per le più esperte. Insomma adatta davvero a tutti. Attendiamo quindi di scoprire tutte quelle che saranno le vostre creazioni. Se vorrete condividerle con noi vi ricordo della pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e del nostro blog. Al prossimo Tessila News!